Dopo il vertice di ieri tra Pdl e Lega d'Arcore, stravolta la manovra anticrisi che inizia oggi il suo iter al Senato. Cancellati l'aumento del livello e la tassa di solidarietà, stretta sulle pensioni e riduzione dei vantaggi fiscali per le cooperative. Saranno eliminate le province e dimezzati i parlamentari, ma per farlo servirà una legge costituzionale. Ed è unanime la bocciatura dell'opposizione alle modifiche della manovra. Per il Pd la maggioranza è in uno stato confusionale, i conti non tornano, ha detto il leader dell'Udc Casini. Di Pietro parla di manovra pessima e dannosa, mentre per Italo Bocchino di Futuro e Libertà le modifiche sembrano peggio della soluzione di partenza. L'ex ministro Scaiola è indagato per l'acquisto della famosa casa con vista sul Colosseo. Per la procura di Roma fu pagata in parte dall'imprenditore Anemone in cambio di favori. Secondo i magistrati si tratta di finanziamento illecito ad un parlamentare. Sono sereno, ha commentato Scaiola. La moglie e tre figli di Gheddafi fuggiti in Algeria. Le autorità precisano sono stati accolti per ragioni umanitarie e sono comunque diretti in un altro paese. Il colonnello invece si sarebbe rifugiato con altri due figli a 100 chilometri da Tripoli. Confermata la morte di un altro figlio del Raiss è rimasto ucciso in un raid della Nato. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Comuncia dunque oggi il cammino, lungo cammino, della manovra riscritta ieri nel vertice ad Arcore tra PDL e Lega. Manovra già bocciata dall'opposizione. Molti dettagli devono essere ancora definiti. Sono stati presentati oltre 600 emendamenti. Ma rivediamo le novità sostanziali della manovra riscritta nel servizio di Mila Cataldo. Sulla manovra accordo raggiunto tra PDL e Lega dopo quasi un'intera giornata di vertice ad Arcore. Quasi otto ore per siglare un'intesa che in buona parte stravolge la manovra come era stata presentata il 12 agosto. Seppure assicurano dalla maggioranza tassi invariati. Scompare il provvedimento che più aveva fatto discutere e più in viso e che Berlusconi aveva digerito meno di tutti. Il contributo di solidarietà rimarrà solo per i parlamentari. Ammorbiditi di circa 2 miliardi di euro, Italia gli enti locali, i cui rappresentanti proprio ieri avevano manifestato a Milano con amministratori di destra e di sinistra, del nord e del sud, uno a fianco all'altro per protestare contro la manovra. Per la soppressione delle province, per il dimezzamento di deputati e senatori invece, si rimanda a un intervento di natura costituzionale. Nessun aumento dell'IVA, come volevano Tremonti, il Carroccio e la Cisle di Bonanni. Al contrario, si metterà mano al capitolo pensioni, che da principio sembrava intoccabile per il vetoleghista, ma senza modificare l'attuale regime previdenziale, toccando invece il computo degli anni di lavoro in base al quale si calcola la pensione. Saranno esclusi i periodi relativi al corso di laurea e al servizio militare obbligatorio. Non verranno invece toccate le pensioni di anzianità, da lavoro reale, tutelate estrenuamente dal Carroccio contro le pressioni esercitate dai frondisti del PDL, che si dichiarano comunque soddisfatti. Sono salvi i piccoli comuni, a patto però, che accorpino le funzioni e riducano i componenti dei consigli comunali senza indennità o gettoni. Maggiori poteri agli enti territoriali nella lotta all'evasione. Rimane la robin tax di Tremonti ed entra la tassa sull'evasione voluta dal ministro leghista Calderoli, prevista una stretta sulle società di comodo, una riduzione delle misure di vantaggio fiscale alle cooperative e nuove misure fiscali volte ad eliminare l'abuso di intestazioni e interposizioni patrimoniali elusive. Berlusconi non nasconde la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto e soprattutto per la cancellazione del contributo di solidarietà per i redditi da 90.000 euro annui. Berlusconi molto soddisfatto, critica invece l'opposizione, come ci racconta nel servizio. Paolo Luzzi. Le opposizioni bocciano la manovra che esce dal vertice PD alla Lega di Arcore, modifiche che non soddisfano solo tasse e niente riforme e soprattutto il dubbio che i conti non tornino. In generale si dubita che all'apertura del confronto annunciato dalla maggioranza si tramuti in una reale disponibilità a rimettere mano a quanto è uscito dalla villa del Presidente del Consiglio. Dal PD Bersani parla di stato confusionale della maggioranza e si augura che il mondo alle sborze non valutino troppo pesantemente la debole soluzione uscita dopo sette ore di summit. Un compromesso a ribasso gli fa eco Enrico Letta, mentre Franceschini critica la decisione di affidare alle pensioni l'obiettivo di fare cassa. Se non li conoscessimo, dice Massimo Donadi dell'IDV, saremmo disposti a commentare positivamente il dimezzamento dei parlamentari e l'abolizione del provincie, unici elementi positivi di una manovra pessima e dannosa. E il leader del partito Di Pietro infatti parla di modifiche e riforme solo sulla carta, una nuova presa in giro degli italiani. I conti non tornano e fredda la reazione dell'Udc alle modifiche, alla manovra che il governo pensa di portare all'approvazione delle Camere. Secondo Cassini, il ricorso alla Costituzione sarebbe comunque solo un modo per non fare le riforme necessarie ora al Paese. Il rischio è il baratro, avverte il leader dell'Udc, ma lavoreremo per migliorare la manovra. Non meno severo il giudizio degli altri esponenti del terzo polo. Le modifiche sembrano peggio della soluzione di partenza, dice Italo Bocchino di Flì, soprattutto se non verranno concretizzate le riforme costituzionali relativo al numero dei parlamentari e dalle province. Con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti, l'ex ministro Claudio Scaiola è da ieri indagato dalla Procura di Roma per la vicenda della famosa casa vicino al Colosseo. L'ex ministro ribadisce però di poter chiarire tutto il servizio di Lavinia Bruno. Circa un anno e mezzo dopo le dimissioni, Scaiola risulta indagato per la casa con vista sul Colosseo che gli costò la poltrona da ministro dello sviluppo economico. Secondo la Procura di Roma, l'accusa è finanziamento illecito ad un parlamentare. L'appartamento 200 metri quadri in via del Fagutale, acquistato anche grazie ad una consistente somma di denaro versata da altri e secondo Scaiola, sua insaputa. La compravendita risalirebbe, secondo quanto accertato dalla Procura di Perugia, a luglio del 2004, ufficialmente costò 610 mila euro, ma per quell'appartamento furono versati in tutto 1 milione e 700 mila euro e una parte di questi, ovvero 900 mila euro, sarebbero stati versati da Diego a Nemone. L'imprenditore, coinvolto nell'inchiesta sugli appalti del G8 e sulla cosiddetta Cricca, avrebbe pagato in nero 900 mila euro in 80 assegni circolari tramite l'architetto Zampolini che ha confermato di aver consegnato il denaro alle sorelle Papa, ex proprietarie di quella casa. Un anno e mezzo dopo l'inchiesta dei magistrati Umbri, a cui si è aggiunto negli ultimi mesi il lavoro di verifica di Ross e Guardia di Finanza, l'incartamento che chiama in causa solo Scaiola e ora sul tavolo del procuratore capo di Roma, Giovanni Ferrara, insieme al procuratore aggiunto Alberto Caperna, indagano anche sulla cosiddetta lista di favori di Nemone. Regalì e versamenti a politici e ad amici altolocati e tra le ristrutturazioni e favori risultò che già nel 2001 Nemone aveva rapporti con Scaiola, allora ministro dell'interno, come risulterebbe dall'appunto un milione di lire versato al suo autista. L'esponente del PDL oggi si dice sereno, chiarirò definitivamente la mia posizione, ha detto Scaiola. Problemi giudiziari che toccano anche il Partito Democratico. Il segretario Bersani ha chiesto a Filippo Penati di rinunciare alla prescrizione che ha confermato l'inchiesta per corruzione della procura di Monza. Sentiamo il servizio di Daniele Magli. Il doppio binario dell'affer Penati, quello locale dei soldi che secondo le dichiarazioni degli imprenditori sestesi sarebbero serviti per finanziare il partito a sesto e la federazione milanese e quello nazionale che ha come protagoniste principali le cooperative rosse. Un binario, quest'ultimo, che condurrebbe direttamente a Roma. Su questo punto vogliono vederci chiaro i PM monzesi Walter Mapelli e Franca Macchia che nei prossimi giorni ascolteranno Omer degli Esposti, vicepresidente del consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna, indagato per concussione, il quale sarà chiamato a spiegare come mai l'imprenditore Giuseppe Pasini pagò alle coop quasi 3 milioni e mezzo di euro per entrare nell'affare Falc. L'ingresso delle cooperative sarebbe stato imposto a Pasini da Penati e dal suo ex braccio destro Vimercati e sarebbe stato proprio quest'ultimo a dire al figlio di Pasini che le coop avrebbero garantito la parte romana del partito. Intanto ieri a Monza sono stati sentiti dal G. Panna Magelli per l'interrogatorio di garanzia i protagonisti minori della vicenda, i due arrestati, l'ex assessore all'edilizia Pasqualino Di Leva e l'architetto Marco Magni. Di Leva ha risposto alle domande dichiarandosi estraneo a tutti i fatti, mentre Magni si è avvalso della facoltà di non rispondere perché non in possesso di tutte le carte. In attesa che il riesame decida sul ricorso presentato dal PM Mapelli sul mancato arresto di Penati e Vimercati, ieri il magistrato ha interrogato la ex responsabile dello sportello unico dell'edilizia del comune di Sesto, Nicoletta Sostaro, indagata per corruzione. Una corsia preferenziale, secondo i PM, per il rilascio di permessi dietro pagamento di tangenti. E in queste ore arrivano nuovi aggiornamenti anche nella inchiesta sulla cosiddetta P3. Secondo la procura di Roma sarebbero coinvolti molti politici e magistrati e spunta anche il nome del premier Berlusconi, il servizio di Sergio Gamberale. L'inchiesta era stata chiusa l'8 agosto scorso. Ora le 66.000 pagine sono state depositate. Dalle carte dei magistrati romani Giancarlo Capaldo e Rodolfo Sabelli emerge il ritratto di un gruppo di potere occulto e senza scrupoli. Un singolare sodalizio impegnato a tessere una ragnatela di rapporti con l'intento di influire a proprio piacimento su scelte politiche ed esiti giudiziari, senza disdegnare rapporti con la malavita e il mondo dello spettacolo, Lele Mora incluso. Marcello Dell'Utri e Denis Verdini sono i nomi di maggior spicco nel voluminoso fascicolo. I due alti esponenti del PDL, insieme a Flavio Carboni, Pasquale Lombardi e Arcangelo Martino, avrebbero formato il gruppo dirigente della P3. Ma dalle intercettazioni emerge la figura di un non meglio specificato, Cesare, l'uomo cui il gruppo riferiva l'esito delle proprie losche attività. Secondo i magistrati romani, dietro quello pseudonimo si nasconde Silvio Berlusconi. Il Premier, che non risulta indagato, compare però nelle carte per alcuni incontri effettuati a Villa Certosa e per 10 milioni di euro di bonifici a favore di Marcello Dell'Utri. Strani versamenti, come quelli da 8 milioni pagati dall'imprenditore della sanità Angelucci a favore di Denis Verdini per ripianare un suo debito. L'attività della P3, pur non sempre coronata da successo rispetto agli obiettivi che si prefissava, era volta a diversi fini, tentare di condizionare le scelte di giudici e organi istituzionali, brigare per assicurarsi buoni affari come l'eolico in Sardegna, influire sulle scelte politiche nazionali e locali. A loro si rivolge, ad esempio, Roberto Formigoni, lamentandosi perché i loro contatti non erano riusciti a far accogliere il ricorso contro l'esclusione della sua lista elettorale dalle regionali del 2010. Appare chiaro che il gruppo non si faceva alcuno scrupolo. Flavio Carboni finisce nell'inchiesta quando il suo nome spunta tra i contatti del camorrista Pasquale De Martino. Secondo i carabinieri, i due, insieme al noto agente dei VIP dello spettacolo, Lele Mora, progettavano grandi iniziative imprenditoriali, probabilmente nel settore dei casinò. L'ospedale San Raffaele rischia la chiusura per fallimento. Secondo la procura di Milano, la struttura ospedaliera sfiora il miliardo e mezzo di debiti. Sentiamo Lorenzo Morelli. Il San Raffaele è sommerso da una montagna di debiti. Dopo l'uscita di scena del fondatore Don Luigi Verze, il suicidio del suo vice Mario Cal e l'insediamento dei manager, targati Vaticano, è stata fatta chiarezza sullo stato patrimoniale dell'ospedale di Segrate. Secondo la società di revisione indipendente Deloitte, a fine giugno le passività del gruppo ospedaliero sono salite a un miliardo e mezzo di euro. Nel bilancio 2010 erano meno di un miliardo. A far impennare i debiti sarebbe stato il sistema di garanzie concesso dalla fondazione per conto di alcune controllate, i cui nomi però non vengono resi noti. In particolare di questa montagna di debiti, 431 milioni sono legati al leasing e alle garanzie concesse. Ma non finisce qui. L'altro dato allarmante è il patrimonio netto, che è stato rettificato in negativo per 210 milioni di euro. Nell'analisi precedente il dato era positivo e ammontava 28 milioni. Il management, guidato da Giuseppe Profitti, uomo di fiducia del Cardinal Bertone, assicura che il nuovo corso dell'ospedale sarà ispirato ai principi voluti da Don Verze, ma per tutto il resto è necessario un netto segnale di discontinuità con il passato. Infatti rimangono solo due settimane all'appuntamento del 15 settembre, quando il Tribunale di Milano dovrà giudicare il piano di salvataggio firmato dal superconsulente Enrico Bondi per evitare il fallimento del San Raffaele. La fuga della famiglia Gheddafi dalla Libia. Dopo l'irritazione del Consiglio Nazionale di Transizione Libico, l'Algeria ha fatto sapere che la famiglia Gheddafi è stata ospitata, ma è solo di passaggio per poi andare in un terzo paese. Nessuna notizia invece del ex Rais. Sentiamo il servizio di Vincenzo Adornetto. È solo una tappa di passaggio. L'Algeria ha giustificato così l'arrivo dei familiari di Gheddafi sul proprio territorio. Secondo il governo di Algeri, la moglie del Rais e tre dei suoi figli, Aisha, Muhammad e Hannibal, si trasferiranno molto presto in un altro paese e sono stati accolti in Algeria per ragioni umanitarie. Aisha Gheddafi, infatti, avrebbe appena partorito. Ma il Consiglio Nazionale di Transizione Libico non ha creduto molto a queste giustificazioni e ha chiesto l'immediata consegna dei familiari di Gheddafi. Consideriamo la protezione accordata loro dall'Algeria alla stregua di un atto di aggressione. hanno fatto sapere i leader dei ribelli. Resta il mistero sulla sorte del Rais. Le ultime indiscrezioni lo danno ancora in Libia. Si sarebbe rifugiato insieme ai figli Saif al-Islam e Saadi nella città di Banivali, da sud, dove, secondo i ribelli, le milizie dei Gheddafi si preparano a resistere a oltranza per mantenere il controllo del Fezzan, la regione quasi interamente compresa nel deserto del Sahara, che garantisce una via di fuga verso il Chaco, il Niger. I ribelli danno per certo anche la morte di un altro figlio del Rais, il 28enne Kamis Gheddafi, capo delle unità d'elite, la 32esima brigata. Kamis sarebbe stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli insorti, secondo fonti britanniche, invece, la sua vettura sarebbe stata colpita durante un raid aereo della Nato. E con Kamis sarebbe morto anche Abdullah al-Senussi, potente capo dei servizi segreti libici. Anche per lui, come per Gheddafi e il figlio Saif Al-Islam, la Corte Penale Internazionale dell'AIA aveva spiccato un mandato di arresto. E adesso le notizie dello sport, in studio Edoardo Soldati. Buongiorno Paolo, buongiorno, buongiorno anche a voi a casa. E allora cominciamo dalla nazionale di Cesare Prandelli, al centro dell'attenzione, non solo perché gioca due incontri per le qualificazioni agli europei, ma anche perché in casa degli azzurri a Coverciano si analizzano due fattori importanti di queste ore, come il mercato e lo sciopero. Il nostro inviato, Francesco Izzi. Coverciano il giorno dopo lo sciopero. Eccolo qui il cambio di scena, con i calciatori non più in astensione, ma al servizio del Paese. Due estremi con un CT in mezzo, imbarazzato quanto basta, e penalizzato da una squadra che deve preparare senza rodaggio. Gli azzurri sono una cassa di risonanza inevitabile del sisma dialettico abbattutosi sulla categoria che infiamma una moderna lotta di classe. Gigi Buffone reagisce così. Il popolo purtroppo, secondo me, alcune volte si lascia troppo condizionare dagli organi di informazione che troppo spesso e troppe volte non scrivono cose oneste e cose veritiere, ma scrivono cose convenienti. Difetto di comunicazione ma anche sospetti nell'analisi del portierone, sorpreso dalla frenata della trattativa sul contratto collettivo. Sulle modalità ci eravamo già trovati d'accordo parecchi mesi fa e ora incredibilmente è stata fatta questo tipo di retromarcia. Come spesso accade, quando ci sono momenti delicati anche in politica, poi viene messo di mezzo il calcio per creare il polverone per altri 15 giorni e magari non parlare di cose molto più serie e molto più importanti che riguardano la società nella quale viviamo. Io non penso che venga usato il calcio per nascondere qualche problema, perché il problema è come quando arrivi a casa che sei sporco, se tu pulisci e nascondi lo sporco prima o poi lo ritrovi, quindi rimangono i problemi. Il Citi rimasto senza partire si sarebbe aspettato più disponibilità dai calciatori. Ovviamente è facile per l'opinione pubblica dire che i giocatori sono viziati, che vogliono. Forse per quello che quando dicevo prima, il gesto di comunque scendere in campo nonostante tutto sarebbe stato un gesto meraviglioso. E domani alle 19 si chiuderà il calcio mercato con Luca Catuogno. Andiamo a vedere cosa può riservarci la campagna di trasferimenti in queste battute finali. Farò il meglio per una grande squadra. Diego Forlanne è sbarcato ieri sera a Milano. L'Atletico Madrid gli ha riconosciuto alcuni degli stipendi arretrati, un accordo che ha dato il via libera al trasferimento del bomber uruguaggio all'Inter. Il suo cartellino è stato valutato 5 milioni, mentre il giocatore dovrebbe firmare un biennale da 3 milioni e mezzo, più bonus da 500 mila euro all'anno. Oggi le visite mediche. I nerazzurri hanno inoltre ufficializzato l'arrivo di Poli dalla Sampdoria e definito con il Genoa lo scambio Viviano Cucca, un affare che però diventerà operativo da gennaio. Sempre con il rosso-blu è invece quasi saltata la trattativa per Palacio. Sull'esterno d'attacco argentino c'è adesso la Roma, disposta a spendere 11 milioni o a sacrificare Borriello. L'obiettivo dell'Inter si sposta quindi sul laziale Zarate. Intanto Sneijder esce dal mercato, ma nel calcio tutto è possibile, ha sottolineato il fantasista di Gasperini. Tornando alla Roma, i giallorossi hanno presentato Osvaldo e stanno cercando di blindare De Rossi, pressato dal Manchester City. Tra le priorità del DS Sabatini, anche quella di rafforzare il centrocampo. Due le piste, Gago e Lassana Diarrà, entrambi del Real Madrid. Il Milan sembra aver rinunciato a Kakà e potrebbe tentare il colpo dell'ultima ora con che età del Barcellona. La Juve, infine, sta riflettendo sull'offerta del Marsiglia per Amaury. 5 milioni, la metà di quanto i bianconeri hanno messo sul piatto per l'olandese Elia. Ma l'Amburgo, per il momento, non cede. In questi giorni le grandi del calcio europeo hanno vinto e segnato molto. Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid. In questa lista poteva mancare il Barcellona. Certamente no, i catalani hanno vinto 5-0 contro il Villarreal di Giuseppe Rossi. In cassaforte la Supercoppa spagnola e quella europea, adesso la partenza della Liga con il piede giusto. È un Barcellona che continua a mietere successi, a creare spettacolo, a rendere gli avversari dei semplici sparring partner. I 90 minuti contro il Villarreal sono l'ennesimo manifesto di una supremazia del Barça letteralmente schiacciante. Ai 6 gol rifilati domenica scorsa dagli avversari del Real Madrid contro il Saragozza fanno da controaltare i 5 segnati dalla formazione di Guardiola, la squadra che l'anno scorso aveva ottenuto il quarto posto nella Liga. A realizzare le reti per i Blaugrana sono stati proprio quei giocatori che quest'anno sono venuti a rinforzare una rosa già di per sé stellare. Tiago Alcantara dalla Barcellona B e poi i due grandi colpi del mercato estivo. Fabregas e Alexis Sanchez per il Cileno, primo gol con la nuova maglia. Immancabile la doppietta di Messi per il 5-0 finale, per la felicità dei tifosi del Camp Nou che anche quest'anno avranno molto per divertirsi. La sfida a distanza con il Real Madrid è lanciata. Difficile se non impossibile pensare ad un outsider che possa impensierire le due corazzate spagnole. E siamo al tennis, è passato l'uragano Irene. A New York hanno preso il via gli Open degli Stati Uniti, subito con una sorpresa nel tabellone femminile. La campionessa di Wimbledon, la ceca Petra Vitova, si è fatta eliminare al primo turno dalla romena Aleksandra Lugheru che ha finito per imporsi per 7-6, 6-3. Avanzano invece la Sharapova e Venus Williams. Nel torneo maschile nessun problema per Roger Federer che alla prima uscita ha battuto il colombiano Santiago Giraldo, 6-4, 6-3, 6-2. Vince facile anche l'americano Marty Fish che concede soltanto 5 games al tedesco Tobias Kam che avanzano anche i nostri Cipolla e Fognini. E per lo sport per il momento è tutto, a te Paolo. E allora per ricordarvi che potete rivedere questa edizione telegiornale sul sito tgla7.it dove potete avere anche tutti gli aggiornamenti alle notizie della giornata. Prossima edizione del telegiornale alle 13.30 e adesso il dibattito Omnibus con Manuela Ferri. Naturalmente si discute della nuova manovra riscritta. Dopo la sigla, buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.